Abitat Lab è un training center, è un luogo che Sengoven ha voluto e pensato come spazio in cui realizzare la formazione delle persone che con noi collaborano. Le persone che con noi collaborano sono tutte quelle coinvolte nella filiera delle entità, quindi progettisti ma anche applicatori, quindi chi poi materialmente mette in opera le soluzioni. Abitat Lab è esso stesso, in qualche maniera il testimonial di quello che noi andiamo a insegnare nei nostri corsi. Quindi noi insegniamo come realizzare edifici energeticamente efficienti, edifici sostenibili, edifici multi-confort, quindi che si occupino del comfort delle persone. Abbiamo pensato di realizzare Abitat Lab esattamente seguendo gli stessi concetti, quindi un edificio che è da un lato energeticamente molto efficiente, ma dall'altro che è un edificio sostenibile, un edificio certificato LEED, un edificio che si occupa anche del comfort delle persone che lo occupano, di conseguenza che tiene a conto quelle che sono le esigenze acustiche, per esempio nell'ambiente, la qualità dell'area all'interno degli ambienti in cui noi dobbiamo trascorrere parecchio tempo, e ancora la disponibilità di luce naturale e anche una certa attenzione al design, perché è difficile non trovarsi proprio agile in un ambiente che giudichiamo obiettivamente brutto. Grazie 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 Grazie